Cominciamo e cominciamo a vedere dove si trova la fascia degli asteroidi. Questo è lo schema del nostro Sistema Solare, abbiamo i pianeti rocciosi vicino al Sole, i giganti gassosi più lontano e la fascia che separa queste due grandi regioni del Sistema Solare, quello interno da quello esterno. La fascia si trova qui e si sviluppa per una distanza che va tra le due e le quattro unità astronomiche. Una unità astronomica sarebbe la distanza che c'è tra la Terra e il Sole, che sono 150 milioni di chilometri, quindi la fascia degli asteroidi si sviluppa tra i 300 milioni e i 600 milioni di chilometri, anche se possiamo dire che la parte maggiore si sviluppa fino a un massimo di 3.5 unità astronomiche, dico 4 perché ci sono corpi ancora minori che si sviluppano fino a quella distanza. I corpi minori del Sistema Solare sono tutti quegli oggetti più piccoli degli otto pianeti principali e ho già dedicato una lezione ai pianeti nani, ovvero quegli oggetti che hanno una struttura simile a un pianeta ma che non hanno tutte le caratteristiche di un pianeta, come ad esempio la capacità di poter ripulire completamente la loro orbita. Spesso questi pianeti nani condividono la loro orbita con altri oggetti simili. Nella maggior parte i pianeti nani sono praticamente oggetti post-nettoniani, ovvero che si trovano oltre l'orbita di Nettuno. Nel sistema solo all'interno troviamo solamente Cerere come pianeta nano all'interno dell'orbita di Nettuno, che si trova appunto nella fascia. Quindi principalmente i pianeti nani sono oggetti della nube di Oort, che è una regione del Sistema Solare che abbiamo già visto precedentemente e che si sviluppa ben oltre l'orbita di Nettuno. Ho dedicato loro un'intera lezione nella numero 15 di questo corso. Quindi a parte dire che solamente Cerere è l'unico pianeta nano presente nella fascia di tutto il Sistema Solare, posso benissimo andare avanti. Il focus di questa lezione è invece concentrato su un altro genere di corpi minori, che sono in particolare oggetti piccoli, rocciosi e metallici. In questo caso abbiamo corpi minori che obitano intorno al Sole, ma che non sono pianeti nani e che non hanno raccolto abbastanza massa per raggiungere il loro equilibrio idrostatico, ovvero la gravità che generano non è sufficiente a modellarli in forma sferica. Stiamo parlando appunto degli asteroidi. Gli asteroidi sono costituiti principalmente da silicati e metalli, abbondano nella fascia tra Marte e Giove, ma si possono trovare anche in altre zone del Sistema Solare. Ad esempio, in altre zone del Sistema Solare li possiamo trovare sotto forma di troiani, ovvero asteroidi che sono intrappolati in punti di equilibrio gravitazionale nelle orbite dei pianeti. Qui vediamo, ad esempio, che Giove ha intrappolato nella sua orbita un gran numero di asteroidi che di fatto sono letteralmente in equilibrio gravitazionale tra la gravità di Giove e quella del Sole. Infatti si trovano a una distanza che è di circa 60 gradi dagli ambo i lati rispetto al pianeta Giove e lo seguono lungo la sua orbita intorno al Sole. E poi abbiamo i NEO, Near Earth Object, ovvero oggetti che sono vicini alla Terra o che in ogni modo orbitano nei pressi della Terra. Sono oggetti anche di grandi dimensioni che potrebbero rappresentare un pericolo per il nostro pianeta. E infine abbiamo le comete. La differenza che c'è tra asteroidi e comete è che queste ultime sono costituiti da materiali più volatili, azoto, ghiaccio d'acqua, materia organica ed altri composti che, avvicinandosi troppo al Sole, possono sublimare generando queste lunghe code. Quindi sono di fatto degli asteroidi però fatti di materiali che, avvicinandosi al Sole, tendono a evaporare. Per questo motivo li troviamo in abbondanza a grandi distanze dal Sole, principalmente nella nube di Orte, quindi sono oggetti oltre l'orbita di Nettuno, e molto difficilmente li possiamo trovare nelle zone della fascia degli asteroidi o anche più vicino, a meno che non siano di passaggio. E lo vedremo bene nella prossima lezione che sarà dedicata appunto alle comete. Poi abbiamo un'altra grande famiglia di corpi minori che non sono né pianeti né asteroidi e né pianeti nani. Stiamo parlando dei satelliti, ovvero sono oggetti a volte, non sempre a volte, anche di massa planetaria, che però invece di orbitare direttamente intorno al Sole, sono in orbita intorno a un altro pianeta. È il caso anche della Terra, noi abbiamo la nostra Luna, che ha un diametro che è un quarto di quello terrestre, ma come vedete anche gli altri pianeti hanno i loro satelliti. Qui vediamo le quattro lune gallileiane di Giove, Io, Europa, Ganymede e Callisto, le due lune asteroidi di Marte, Phobos e Deimos, addirittura un asteroide, Idra, ha una Luna, un altro asteroide molto più piccolo, Dacito, e poi qui vediamo le lune di Saturno, di cui spicca Titano, l'unico altro oggetto oltre alla nostra Luna dove vi è atterrato un manufatto umano. Infatti la sonda Cassini lanciò la Juygens, una mini sonda che atterrò sulla superficie di Titano nel 2004. Poi vediamo le lune di Urano, di Nettuno e di Plutone. Anche Plutone, che è un pianeta nano, ha il suo satellite caronte. Questo è solo un estratto della lezione completa dedicata alla fascia degli asteroidi. Nella lezione completa introdurrò tutti i corpi minori del Sistema Solare, dai pianeti nani fino agli asteroidi e le comete. Vedremo in dettaglio i corpi principali della fascia degli asteroidi. Parlerò delle varie teorie che hanno portato alla sua formazione e che potrebbero spiegare anche l'attuale struttura del Sistema Solare con piani di rocciosi all'interno e gassosi esterni. E poi vedremo tutte le missioni che sono state fatte per esplorare anche in modo diretto questi oggetti molto interessanti del Sistema Solare. Potete trovare questa lezione, la numero 22 e tutto il corso di astronomia sul mio canale YouTube e sulle mie pagine social Instagram e Facebook Prof Antonio Loiacono. Grazie.